ciao a tutti siamo sempre il nightclub vediamo le nuove missioni che ci offre questo nuovo DLC del criminal enterprises in buona sostanza capita che i clienti si ubriachino e noi dobbiamo aiutarli a tornare a casa ma semplicemente basta andarli a prendere e guidare ecco qua il signor vip missione un po' ambiosa ma che accresce la popolarità forse o veda ne so che laggata bisogna riportare il vip a casa senza sballattarla troppo e senza andare troppo veloce altrimenti si spaventa e perdete la missione comunque sono solo due chilometri cosa fattibile ad esempio adesso sta andando forse troppo veloce per lui no si un po' si rallentiamo un attimino cerchiamo di non prendere cartelli sti notenti e sti infami che passano con le inverte per loro che guarda caso spuntano sempre in questionissimi dove non bisogna fare incidenti oh la la fai attenzione è importante il servizio di accompagnamento però io sono uno dei titolari del nightclub quello che fa le missioni losche e mi trovo a fare l'autista non ha molto senso vero comunque andiamo a spacca ora lo farò arrivare alla massima velocità sto tipo 500 che non mi dare troppo veloce tanto in questo nuovo miglioramento c'è che nelle missioni tipo le rapine o robe lunghe puoi skippare quelle introduzioni che prima non erano skippabili e che erano noiosissime eccoci arrivati eccoci arrivati ma cosa c'è qua sì signori ma aspetta un attimo buongiorno la proprietà del mio nightclub è aumentata metti uno in andrea di avvengiero con che arma ti posso fare fuori conosco un'arma pistola di peco non l'ho mai usato che schifo pure la ricarica lente viene qua viene qua basta una sola pistolettata per far fuori bene dopo questa missione scema vi saluto grazie